A Livorno, sempre. Lettera di accompagnamento. Casa circondariale Lesugere, Livorno. Al reverendo Don Giuseppe Tripalle, già cappellano di questo istituto di pena, suo domicilio. Livorno, 28 giugno 1962. Reverendo Don Giuseppe, l'invio allegato alla presente, l'involto che il defunto detenuto Verticelli Armando Fu Francesco voleva indirizzarle con preghiera fatta in articulo mortis direttamente alla mia persona. Poiché è vero, come dice Plinio, che non esiste scritto che di per sé non contenga qualcosa di buono per chi lo dovesse leggere, mi auguro che le memorie dell'anima sventurata del Verticelli, che tutti qui chiamavamo Armandino, possano andare a conoscenza di molti e che molti ne traggano beneficio. Ragion per cui lo affido alle sue cure che esso già saranno benevoli e misericordiose di perdono nei confronti di chi lo ha scritto. Armandino è morto con il conforto del sacro crisma dell'unzione degli infermi, in piena serenità e coscienza di spirito, perdonando tutti e a tutti chiedendo perdono. Egli si è sempre adoperato per l'aiuto dei suoi compagni di detenzione e, pur non avendo mai mostrato segni di pentimento, sono certo che l'Altissimo ne avrà pietà, che a lui è riservata la giustizia, non certo al miserevole sistema giudiziario umano. Il medico di questa casa circondriale ne ha constatato il decesso per infarto acuto del mio cardio. La prego di ricordarmi nelle sue preghiere. Suo, dottor Nedo Caciagli, direttore. Largo con calma, movimentato assai. Io e l'Annina ci si sposò ad aprile sotto una pioggerellina fitta fitta come una sassaiola di gaiottoli che ci rese, se possibile, ancor più allegri e felici. All'Annina avevo detto di arrivare puntuale al santuario di Montenero perché, se avesse tardato, come fanno le ragazze che vanno inispose, ne avrei avuto certamente preoccupazione e malumore. Non mi mettere furia! Mi sposo una volta sola nella vita e voglio vestirmi bene. Ebbene si vestì, perverendo padre, non dubiti, splendeva di gioventù nel suo vestito appena appena scollato che portava con singolare ma straordinaria disinvoltura. Ostentava una sicurezza nei movimenti che mi lasciò attonito come se non avesse fatto altro che sposarsi in tutta la sua vita. portava in mano un mazzo di fiori di campo che depose sotto l'immagine venerata della Vergine Protettrice. Quanto più l'Annina mostrava sicurezza tanto più io mi sentivo impacciato impacchettato com'ero nel vestito che mi aveva prestato ora non ricordo chi. Ero rigido, rappreso mi muovevo a fatica e cercavo di restare il più possibile fermo per non mostrare disagio o imbarazzo. Ufficiò la cerimonia un frate francescano anziano che dal pulpito dei suoi novant'anni biascicava il Vangelo come risucchiasse una minestrina di magro ma l'Annina non vi fece vada. All'ingresso qualcuno aveva già improvvisato una strofa sul motivo della marcia nuziale invitando gli sposi a non compiere quel gesto per evitare possibili tradimenti ed essere indicati a dito dalla gente. L'Annina pronunciò il suo sì con voce chiara e sicura io invece la voce dovetti schiarirmela un paio di volte o tre baciai l'anello prima di infilarglielo al dito. Mi sentivo grato a lei e al mondo intero per avermi preso come marito e avermi atteso tanto e per la prima volta mi sentii in pace. L'Annina mi aveva redento di quella redenzione umana gratuita e a perdere senza chiedermi nulla indietro. S'andò a desinare dalla nonna Lina in pace mentre fuori continuava a piovere ma di quella pioggia dolce costante che non si ferma mai e che intride i vestimenti di un umidore che a malfatica si avverte. Ti sei bagnato? non ti preoccupare questa è acquascema. L'Annina parlava e ogni espressione che proveniva dalle sue labbra rigonfie e carnose pareva portarmi un senso di sicurezza e di gratitudine verso quella donna che non aveva fatto altro che aspettarmi con pazienza e tenacia per tutta la vita e senza mai darmelo ad intendere e le baciai quelle labbra la sera quando ci ritrovammo non era nemmeno stanca di tutte quelle grida di viva gli sposi di tutte quelle parolacce grevi e volgari che pure a Livorno non mancano neanche negli sposalizi sì reverendo padre le baciai come avessi posato la bocca incerta su una sacra immagine perché non verrà altro in lei che l'aura di secralità impressa dal rito del matrimonio e mi resi conto allora stesso che nessuno avrebbe turbato quella pace che era in lei che era in me pura sconosciuta rotta a tratti solo dallo squillare argentino della sua allegra consapevolezza di essere sposa pace ne ebbi anch'io e in abbondanza presi a lavorare presso un negozio gestito da una coppia di coniugi anziani e che vendeva granaglie legumi secchi e cereali al dettaglio l'amelia così si chiamava la proprietaria aveva passato più di metà della sua vita a incartar fagioli lenticchie orzo e riso nel foglio giallo che andava bene per qualsivoglia sorta di cibo si volesse comprare dal pesce alla carne e siccome di carne se ne vedeva assai poca l'amelia soppriva i bisogni alimentari della clientela piegando e ripiegando con abilità quegli involti destinati a chi aveva da badare più al borsello che al portare il necessario mangiare in casa ecco signora mezzo chilo di ceci di quelli nostrani vedrà che oggi mangia bene suo marito a genore invece vedeva e rivedeva i conti che non gli tornavano mai bagnava con la saliva la punta dell'apisco piativo pigliava su un foglio di quelli da incarto e lo riempiva di numeri che segnava come volesse interrogarli uno per uno e la cui somma vuoi per imperizia vuoi per i clienti sempre meno disposti a spendere non gli tornava mai si riponeva la matita dietro all'orecchio ripassava le palme delle mani sul grembiale e suggellava i suoi calcoli mormorando anche stasera si fa il giro del tavolino io trasportavo i sacchi pieni di tutto quel ben di dio a volte genore non aveva di che pagarmi e allora mi permetteva di portarmene un po' a casa dove l'annina mi aspettava con gli occhi lustri dalla contentezza facioli borlotti i boni stasera ci si fa la minestra coi padren nostri vammi a prendere un po' d'aglio una pimenta e un rametto di ramerino vai che si sgrofugna i mesi passarono senza che me ne accorgessi in quel delicato equilibrio che mi aveva fatto passare di mente perfino l'onta che mi avrebbe accompagnato per l'esistenza intiera quella di aver ammazzato un uomo spesso io e l'annina si ragionava del far figlioli e del fatto che ormai era ora che ci si desse da fare allora citrullone lo vorresti un maschio e lo vorrei sì ecco lo vedi che sei citrullo femmine ci vogliono sono più intelligenti e poi una mano in casa mi ci vuole davvero o perché i maschi cos'hanno sono stupidi no ma se cresce come suo padre si sta allustri tutta la gente del rione diceva che l'annina se la gallina non le faceva due uova al giorno non la teneva in casa ed era vero a volte ma io mi sentivo pervadere riempir di pace e ben volentieri soprassedevo alle sue fisime di brava massaia attenta all'economia domestica il destino tuttavia reverendo padre non guarda alle vicende degli umani semplicemente pare compiacersi di variarle come fossero statuette di cera di lì a poco l'annina si mostrò via via sempre più taciturna si rinchiuse in un mutismo che non lasciava presagire nulla di buono se non la catastrofe che di lì a poco si sarebbe abbattuta sulla nostra vita di sposi e nella mia quella del suo umile servitore che le indirizza queste memorie ho da dire che sarà mai mettita a sedere mi sedetti che le gambe mi tremavano e fu un bene che agguantassi per la spalliera una di quelle seggiole impagliate che avevamo in casa aspetto un bimbo me lo disse con le gote solcate da due lacrime asciutte pareva le si fossero congelate sul viso tanto erano rapprese in un grumo di amaro sale lo stesso che ci viene spacciato il giorno del battesimo perviatico della sapienza non sono sicura che sia tuo seguì un silenzio rotto solo dal suo respiro affannoso che dovette darle se possibile un certo sollievo di quelli che arrivano a liberarci le braccia dopo che si è trasportato un peso eccessivo io mi sentì invadere il cervello da un fiotto di sangue mi premeva in testa obnubilando qualsiasi altro pensiero e facendo del mio sentimento uno stallatico buono ormai per concimare i campi poi repente uno sbocco di lucidità chi è stato Annina chi dimmelo subito o quante veridio faccio lo sproposito quanti spropositi fai te o che vuoi fare ammazzare anche lui o non ti basta una vita che hai levato dal mondo ammazza me me piuttosto che sono stata zitta tutto questo tempo a sentirmi marcire il ventre mentre ti lavavo le mutande non parlammo più per ore di quelle ore che cercai di ingannare riportandomi alla ragione che non voleva saperne al contrario di ricondurmi a lei c'era in casa del vino e ne bevi mezzo fiasco ma non mi bastò l'annina continuava a tacere stolida testarda immersa nel sigillo del suo segreto che mi assordava il Nelly cosa? è stato il Nelly il Nelly ci sei andata a letto allora? no sul pavimento e anche sul tavolino di cucina mi rimisi alla svelta la camicia e i pantaloni e raggiunsi il mare di notte pareva mi fosse restato amico soltanto il suo continuo sciabordare e quella schiuma biancastra che raggiunge la riva e che scompare prima che il mare si ritragga a ritrovare se stesso non so dire se piansi o se mi limitai a imprecare la divina provvidenza e non so nemmen dire quanto tempo restai a guardare la distesa d'acqua che bagna Livorno e le dà riposo ma so che vidi spuntare l'alba del giorno che mi avrebbe maledetto per sempre avevan cercato e continuavano a cercare il Nelli ma non si trovava pareva svanito come una tromba d'aria verso lo scoglio della Meloria cercai di individuare la camerata in cui si trovasse mia sorella nessuno pareva sapesse darmene notizia poi fu un infermiere che vedendomi in quello stato di agitazione consapevole e mai provata insieme ebbe a dirmi che l'avevan trasportata in osservazione perché la cosa si era fatta più complicata di quello che mi figuravo e fu così che li attesi cinque ore in cui l'unico che si mosse a compassione fu un signore che mi offrì in mezzo del suo sigaro non avevo mai fumato prima di allora e quello che avevo sempre avvertito come un odore acre e persistente sembrava quasi che mi schiudesse i polmoni e mi agevolasse il respiro affannoso che mi entrava fin nei bronchi finché uscì un'infermiera che con viso tirato si precipitò a far bollire quello che mi parve un paiolo d'acqua nonché una siringa di vetro per poi correre di nuovo al capezzale della paziente poi ancora mezz'ora senza sapere più nulla il medico varcò la porta del salone d'attesa con uno sguardo che intesi subito come di superiorità e di sfida non avrà avuto più di una trentacinquina d'anni ma parlava con una boria e un'alterigia che aumentarono se fosse stato possibile lo stato d'ira che sentivo traboccarmi nel cervello egli aveva il camice ancora macchiato di sangue e portava due occhialini tondi e fissati dietro alle orecchie da due stanghettine ricurve e a molla dorate ma consulte abbiamo cercato di contenere la posizione podalica e già gravemente compromessa del feto anche con l'utilizzo del forcipe l'operazione ha causato una pur prevedibile depressurizzazione del liquido amniotico causata dall'evento emorragico e dall'eseguità dello spazio di contenimento del canale vaginale con conseguente asfissia il feto presentava una conformazione abnorme del cranio ed è risultato con tutta evidenza idrocefalo la sopravvivenza in questi casi si può stimare tra le poche settimane e i sei mesi al massimo ad ogni buon conto il feto è nato morto può vedere la paziente ma non più di un minuto oh sei qui la voce di benedetta era flebile e sembrava arrivare da una radio mal sintonizzata come ti senti mi sembra che mi abbiano infilato un quintale di ricci nella pancia e poi più giù mi tieni la mano tatino non mi chiamava più così da quando si giocava coi figlioli del cacini che era venuto a stare a Livorno da tre mesi davanti a casa loro e lei mi diceva tatino non c'ho voglia di camminare mi ci riporti a casa in bicicletta e dove l'ho la bicicletta allora stai zitto e pedala seguì un silenzio che si prolungò per alcuni secondi che si dilatarono assieme alle mie pupille insanguinate di pianto e dell'ira funesta che tutti ci pervade eroi o delinquenti che siamo almeno sarà nato vivo lo avrei lasciato al mondo come fa Livorno con su figlioli hai presente Modigliani o tatino o come faceva quella poesia che ci insegnò la maestra Arquati da piccini dai me la dici mormorai anima mia fa in fretta ti presto la bicicletta ma corri e con la gente ti prego si prudente non ti fermare a parlare smettendo di pedalare arriverai al Livorno vedrai prima di giorno la vidi chiudere gli occhi come se dormisse ma riprese noi la bicicletta non ci si è mai avuta le baciai la fronte che scottava del suo dolore e uscii il Nelly dov'era? dov'era quell'infame mentre sua moglie si dissanguava e si massacrava le viscere di dolore per dare alla luce suo figlio che luce non avrebbe mai visto lo cercai per più di due ore prima al circolino come lo chiamava lui dove era solito frequentare un gruppo di anarchici per di giorno e vagabondi come lui poi mi avviai verso la stazione e preso che fui da un'intuizione che mi apparve come una folgre in mezzo alla tempesta all'osteria di via del vino e lì lo trovai ubriaco che non si reggeva ritto gonfio di vino e di risa sguaiata e volgari che compartiva con una donna parecchio più anziana e che aveva la voce arrochita dal tanto fumare alle nazionali esportazione che qualche avventore le regalava in cambio di qualche lavoretto di quelli che pareva sapesse fare solo lei dove eri nato d'un cane t'ho cercato a mezza giornata per tutta la città eh o dove volevi che fossi qui con la Lola lo hai un poncino guarda Nelly che stasera con me hai trovato una mattinata che non ti passa più come quella di Leoncavallo e giù di nuovo risate scomposte e fuori luogo la Lola sembrava una vecchia in carta pecorita e lui il Nelly più che quella rideva e più faceva il gesto di versarsi da bere risultando ridicolo nel suo rendersi a fatto conto che il fiasco si era ormai svuotato e che c'era poco da mungergli il collo il tuo figliolo è nato morto hai capito Nelly morto la Lola smise di ridere di colpo e quell'infame del Nelly si fissò con gli occhi sul bicchiere ancora tinto del rosso delle cantine sociali in cui si era affogato il suo silenzio era più di uno schiaffo che echeggiava dal cisternone al quartiere San Mario attento Nelly che ti marco stretto falla fuori dal vaso e t'ammazzo come un polpo rivoltato e sbattuto sull'iscogli avevo di nuovo bisogno di respirare il sole tramontava in fretta di là dal porto e io sentivo nelle nari l'odore misto di salmastro e nafta che lo caratterizza tornai all'ospedale che già all'oscurità lasciava piovere l'umido della sera e il buio veniva solcato solo dai lampioni che la rischiaravano coi suoi aloni di lume il silenzio il bicchiere sporco di vino sofisticato il forcipe lo attesi per un tempo che non seppi nemmeno calcolare venti minuti mezz'ora o forse qualcosa di più il respiro mi si condensava e il freddo si era fatto tagliente come uno di quei coltelli che servono per ridurre i totani in rondelle lo vidi uscire dal portone principale arriva tranquillo mi avvicinai e si rivolse verso di me fissandomi per non più di un batter di ciglia con quegli occhi sormontati dagli occhiali tondi che gli si erano posti di tralice buonasera chiedetti di udire mi feci più d'appresso a lui cercando di lasciarmi riconoscere proprio nel momento in cui un refolo di vento aveva spazzato via la nebbia in piccoli banchi che striava la visuale fu allora che lo presi non sembrò neanche sorpreso e per un frammento di tempo di quel tempo che avvertì come eterno ebbi come la sensazione che mi stesse aspettando ora te lo do io il forcipe assassino gli sussurrai questa frase all'orecchio e subito glielo morsi affondando i denti nella sua cartilagine senza mollarla finché non ebbi in bocca chiaro il sentore del suo sangue avvelenato di prosopopea scevra da qualsiasi umanità che immediatamente sputai per il disgusto lo tenevo saldamente per il collo e mi fu fin troppo facile farlo inginocchiare come a chiedere pietà cosa che non fece mi arrivò di colpo alle narici l'odore acre delle sue urine che sapeva di paura e lo stesi mezzo rintontito con una pedata che lo centrò in piena bocca facendogli fuoriuscire un altro fiotto di sangue imputridito che andò a stamparsi sul celciato e lì rimase poi mi concentrai con le ginocchia contro il suo petto e premetti fino a sentire lo scricchiolio sinistro delle sue costole che si frantumavano sotto il mio peso oh mammina fece in tempo a dire con gli occhi già mezzi vitrei e fuori dalle orbite subito dopo il sangue dovette cominciare a fuoriuscirgli dai polmoni o da chissà dove perché lo sentivo gorgogliare in un gargarismo mortifero prima in un rantolo dopo e infine nell'ultimo silbilo del suo lurido respiro puzzava ancora restai così su di lui ancora un minuto almeno egli non era più mi accovacciai accanto a lui muto le grida della gente che mano a mano accorreva su quel piazzale polveroso mi giungevano ovattate e distanti di certo qualche donna doveva avere urlato di spavento alla vista di quell'ammasso di vermi da sepolcro così ridotto ma io non la udì vennero a prendermi di lì a poco un poco moderato il processo che seguì quella prima azione criminosa di tutta la mia disgraziata vita reverendo padre non fu altro che una misera e tetra rappresentazione teatrale come lo sono tutte le azioni di giudizio che portano all'unico inevitabile finale annunciato la condanna accade tuttavia e non raramente che gli attori di quelle tragico medie di provincia stanchi e assonnati dal ripetere ogni volta le stesse battute eseguano il loro copione con scarsa anzi scarsissima abilità artistica limitandosi a pronunziare trascinandole nell'eco di una stanza di tribunale poche frasi di circostanza il pubblico accusatore non fu particolarmente acre con questo suo servitore che le scrive non mi guardava mai in volto e pareva limitarsi solo a leggere ad alta voce delle domande che si era segnato su un foglio di carta più per trovare conferme a ciò che rappresentava una conferma col suo solo esistere che per conoscere maggiori e più subdoli particolari sul mio rendo misfatto risposi comunque a ciò che andava chiedendomi e confessai e non negai a tratti pareva essere egli stesso in evidente difficoltà emotiva nell'interrogarmi e nello scandagliare i moti del mio animo rispetto a quella circostanza dolorosa situazione incresciosa da cui io stesso per il sol fatto di essere buono cercai in vano di distrarlo il mio difensore d'ufficio era un tale coi baffetti ingrigiti e una gran maculatura giallastra su una tempia fece il possibile non risparmiandosi nessuna delle battute che gli erano state attribuite nella recita di quel palinzesto parlò di circostanze attenuanti speciali e generiche della mia incensuratezza dote virginale che non avrei certo conservato nel tempo della provocazione che avevo ricevuto da quel povero disgraziato di un medico e dallo stato d'ira che mi obnubilava la mente almeno a suo dire fece il suo lavoro ma nulla di più il finale era dunque più che scontato il giudice emise la sentenza a cui non interposi nessun appello gettandomi addosso la croce e costringendomi in nome del popolo italiano a portarla per quattordici anni da scontare in questo carcere della mia città indifferente alle mie vicende che ho sempre tanto amato e che non ho mai abbandonato nel corso della mia rovinosa vita già maledetta da Dio e in quel momento anche dagli uomini trascorsi dunque tre anni in questa prigione da cui ancora oggi mi rivolgo a lei scrivendole durante i quali mi feci intimo di alcuni compagni di detenzione primo fra tutti il Poletti a cui volevo un gran bene era stato condannato al regastolo per un fatto di cui non volle parlarmi nei dettagli limitandosi a far vicenno con gesti ed espressioni sempre più neutri e non capì mai se fosse perché quel passato non gli appartenesse più o perché gli fosse diventato all'improvviso insopportabilmente greve non sapeva scrivere il Poletti così quando doveva mandare delle missive a casa io mi offrivo sempre volentieri di vergarle per lui su quella carta righine bianca e rosa che i secondini ci passavano e che non sapeva sciopare no signori i pasti non erano gran cosa e questo può perfino risultare comprensibile a una persona di normale intelletto tuttavia io mangiavo ogni cosa se non con il necessario appetito almeno con una ordinaria diligenza che mi permise di sopravvivere e dopo il periodo dell'isolamento che trascorsi a parlare con la mia anima bruciante d'inferno e di rimorsi nonché coi muri diacci e umidi di una cella grigiastra che aveva come contrasto solo il biancore della ceramica dei piedoni del servizio igienico in cui potevo depositare i miei bisogni corporali che di luce non ve ne entrava punta davvero mi misero a lavorare nella biblioteca dell'istituto di pena circostanza che mi sollevò non poco e che mi permise persino di guadagnare qualche quattrino da mandare a casa visto che non mancavo di nulla e che quelle poche dosi di tabacco che fumavo di tanto in tanto me le passava il poletti che ne comprava per sé di libri in vero non è che ne avessi visti e aperti molti in gioventù a casa c'erano solo tre volumi che io ricordi un manuale di cucina di un tal pellegrino Artusi con cui pure mi trastullavo da piccino perché quello sconosciuto raccontava delle ricette semplici e del come dovevano farsi con tale grazia e raguzia da divertir chiunque una edizione senza copertina del cacasenno del banchieri giunta lì non si sa come e un libro dalla copertina verde cartonata che raccontava le storie strampalate di un ragazzetto simpatico che veniva nominato Gian Burrasca per via della sua innegabile indole a corbinare malestri i libri che vi si potevano leggere in quel luogo di pietà umana e cristiana erano assai pochi spiccavano per bellezza di copertine delle edizioni di romanzi condensati pubblicati da un autore americano che doveva avere a cuore il fatto che i suoi acquirenti non facessero tanta fatica nel comprendere i passi astrusi e meno abbordabili di quei contenuti americani a loro volta storie impossibili d'amore e gelosia nella maggior parte dei casi qualche racconto di mistero e di polizia in quelli meno frequenti oltre ad essere di scarso pregio le dotazioni libresche di quel sacrario di anime in pena erano costituite per lo più da edizioni di scarsa qualità e ormai consunte e ingiallite dal tempo e dall'umido con le pagine appiccicaticce della saliva che umettava i polpastrelli per voltarle per tacere di altri liquidi umorali di cui si aveva notizia sol di notte quando nessuno dorme e i fantasmi del corpo si aggrovigliavano nel bisogno sottasciuto di qualche anima offenza spesso veniva a trovarmi in visita Benedetta portava con sé non so se per malcelato imbarazzo o per ritrovato spirito la squillante bellezza della sua gioventù che pareva non volesse né sfiorire né trascolorare a dispetto di quel che le era capitato per via di quell'aido del Nelli c'è qualche d'uno mi capitava di chiederle qualche d'uno sì e sospendeva il discorso guardando superaria come a cercar sul soffitto la conferma alle sue affermazioni che si facevano via via più rade e pungenti mi vogliono bene certo tutti a modo suo il notaio per Natale ma perfino regalato tre paia di calze per l'inverno e ci ha portato il panettone perché se ne potesse mangiare tutti è buffo il panettone sai sembra la topa che si pigliava dal fornaio per merenda quando ci si ritrovava a due dire in tasca te lo ricordi come era buona e ti lasciavo lo zucchero sulle labbra e te ti leccavi in continuazione anche Don Saverio il prete è stato gentile per una sminciatina di puppe mi da sempre più di quel che chiedo e con quei soldi lì insieme a quelli che ci mandi te insomma si camp ti manca nulla a te no nulla nulla e ben di poco o dell'amnistia e dell'indulto si sa qualcosa ormai è questione di poco tempo ma boia ma chi te li scrive i discorsi a te oggi cosa hai fatto hai mangiato le paroline e fu così che con il proseguire delle visite di Benedetta e delle conversazioni che ne seguivano finì che l'amnistia e l'indulto li concessero davvero tranne che per il povero Poletti per il quale nessun provvedimento di clemenza sortì un qualsivoglia effetto datosi che Ergastolano era Ergastolano rimase fino alla fine dei giorni che gli toccarono in sorte e durante i quali dovette camminare a passi malfermi sulla luce che li illuminava ora cecante ora fioca come la fiamma di una candela di seco i più contenti per l'amnistia erano di certo i politici gente che doveva scontare qualche anno non perché avesse fatto chissà che di male a qualcuno ma perché aveva detto quel che non si poteva dire e mi creda reverendo non so proprio rappresentarne i come e il perché ma da allora non mi son mai spiegato come financo le parole possano costituire un crimine il mio avvocato d'ufficio era tornato a trovarmi per via dei calcoli che c'erano da fare per via della buona condotta degli anni indultati e della cancellazione del residuo di pena che avevo ancora da scontare si era fatto vecchio tutto d'un picchio le guance gli cascavano giù penzoloni e lo sguardo non rifletteva nemmeno per poco quell'abilità oratoria nel dibattito forense che indubbiamente aveva e che tutti gli riconoscevano in galera si diceva che avesse un malaccio e che ormai gli restasse ben poco da accampare come fu come non fu i calcoli tornavano come se li avesse fatti col pallottoliere e quando lo vidi per l'ultima volta mi disse che sarei uscito di lì a una settimana ne fui felice sì e questo non potei negarlo ma mi ero abituato a scandire le giornate con lo scorrere del tempo della privazione della libertà un professore comunista di quelli dei politici mi raccontò una sera prima che le luci si spegnessero sull'abisso della notte che c'era un filosofo che si era occupato del tempo interno e del tempo esterno che 24 ore erano le stesse per tutti questo era certo ma che dipendeva da come uno li viveva Berkson mi pare si chiamasse quel filosofo e io il tempo che cadeva su tutti noi come uno stillicidio lo avevo incominciato a vivere con rassegnazione facendo di quel patrimonio di lentezza che mi era stato dato in sorte un bene prezioso non mi restava quasi altro nella mia cella a parte un paio di lenzuola ruvide da cambiare una volta alla settimana il direttore del carcere non era cattivo poveromo un tipo basso di statura calvo e sudaticcio che amava più le carte bollate che occuparsi della sorte dei suoi detenuti pochi giorni prima della mia scarcerazione mi disse due parole di circostanza accozzando convenevoli che non bastavano a riempire l'aria greve di quel luogo mi raccomando verticelli schiena dritta e guardare avanti il peggio è per noi che qui ci ritroviamo e qui dobbiamo restare pensai che verrà molti che avrebbero fatto a cambio tra la loro condizione e la sua costretta si fa per dire a tradursi nella posizione di qualche nulla osta se qualcuno gli chiedeva per iscritto di potersi comprare un po' di cioccolata o un pacco di zucchero lo pensai ma non glielo dissi in parlatorio mi aspettava la benedetta sarà messa uno scialletto rosso con latrina che le illuminava il viso a dispetto del freddo che le illividiva le mani raccolte come in una circospetta preghiera e appoggiate sul grembo sicché ti fanno uscire via sei contento noi sì tutti non ti preoccupare di nulla per i primi tempi ci si arrangia è venuta a stare con noi anche l'annina te la ricordi sì la figliola del bientinesi ora fa la maestra ai bimbi delle scuole t'aspetta tanto anche lei dell'annina a dire il vero ricordavo assai poco solo che da ragazzetta avrà avuto sette otto anni amava sgambare su una bicicletta mezza rotta che il Nenciati le aveva comprato perché diceva gli è un demonio non c'è versi di farla star ferma ma del perché ella mi aspettasse a casa non riuscivo a capacitarmi o forse me ne capacitavo anche troppo bene era sempre stata brava l'annina del bientinesi tanto a scuola come a casa qualche volta sempre da bimbetti si andava al mare a far favolli e lei metteva sempre nel cestino della bicicletta che conduceva a mano perché io non ce l'avevo una bottiglia di limonata che aveva fatto insieme a sua madre e mentre si bagnava i piedi alla ricerca di un crostaceo da mettere nel cacciucco me ne offriva quanti sorsi io ne volessi lo senti è sempre bella fresca ti piace e il giorno in cui salutate le mie guardie più per dovere di occasione che per moto spontaneo del mio animo varcai il portone del carcere per tornarmene in quel fuori di cui tutti parlavano l'annina era lì ad aspettarmi davvero o annina o te eh son qui non te l'aspettavi volevi che ti mondassi l'animonata era bella così anche rincantucciata nella sua ritrosia di avvicinarsi a me appoggiata al manubrio della bicicletta col golfino di lana ripiegato ordinatamente nel cestino di vimini intrecciati alla meglio portava un vestitino nero un po' aderente di quelli che mi dissi li fabbricavano solo per le maestrine graziose e col corpo che pare voler scoppiare e imporsi in quell'andri vieni di lapis rossi e blu ma la tua mamma i tuoi la mia povera mamma è morta che saranno due anni ormai il mio babbo si è accompagnato dopo poco e ora sta per conto suo si fa per dire in casa di quella poco di buono intendo lasciò scorrere la pausa di un respiro poi riprese a me di stare da sola lo sai non mi è mai punto garbato sicché la benedetta mi ha detto che se mi pareva potevo stare da voi per un po' qualche soldo glielo passo ma mi dispiace che non la possa aiutare nelle faccende con tutto il da fare della scuola lei mi lascia sempre qualcosa da mangiare e a me mi fa comodo lo sai ma contento di poco e lo so se sei venuta ad aspettarmi fuori di galera ma contenti di poco si o scemo o costi se l'ho fatto un motivo ci sarà te cosa dici l'ho sempre voluto bene e te ne voglio ma te e io nulla ma che nulla la gioventù fa questi altri scherzi a Nina pare eterna e poi invece la vecchiaia te la ritrovi lì e il budello della citri e di su madre viva è morta nel casino esplodemmo in una risata di quelle risate reverendo che rimbombano dei sapori dell'infanzia degli odori dei fossi di Livorno dei primi e tiepidi amori primaverili mentre si stava sdraiati sui prati della fortezza nuova ad aspettare di darci un bacio e si restava contenti per una settimana e fu in quel ridere che mi venne in mente come in un balenardi temporale che sì in fondo anch'io all'annina avevo sempre voluto bene a lei alle sue biciclette alle sue ginocchia sbucciate quando cadeva per terra nell'impeto di dare una pedalata più energica magari ci si sposa che dici che te certe cose le capisci subito al volo citrullone e poi se vengono dei figlioli beh si tengono o cosa vuoi fare buttarli via ah no di certo tutt'al più se il primo è un maschio lo porterò a far favolli e a giocare a pallone perché se è femmina cosa fai la fai studiare dalle orzoline le cinzi le spalle col braccio e ci avviamo a piedi tutto mi pareva perfetto tutto aveva un ordine un senso le sue spalle fragili la sua bicicletta il freddo che avevo patito in galera i discorsi dolorosi e pungenti di benedetta l'umidità che cominciava a scendere e se s'ammalano i figlioli sono come i frignoli ti s'attaccano al culo e prima di guarire fa in tempo a morire per conto tuo i bimbi sono delicati basta un colpo di fresco una bronchite una tosse canina un malinverno traditore feci finta di non averla nemmen sentita largo con calma movimentato assai io e l'annina ci si sposò ad aprile sotto una pioggerellina fitta fitta come una sassaiola di gaiottoli che ci rese se possibile ancor più allegri e felici all'annina avevo detto di arrivare puntuale al santuario di Montenero perché se avesse tardato come fanno le ragazze che vanno inispose ne avrei avuto certamente preoccupazione e malumore non mi mettere furia mi sposo una volta sola nella vita e voglio vestirmi bene ebbene si vestì perverendo padre non dubiti splendeva di gioventù nel suo vestito appena appena scollato che portava con singolare ma straordinaria disinvoltura ostentava una sicurezza nei movimenti che mi lasciò attonito come se non avesse fatto altro che sposarsi in tutta la sua vita portava in mano un mazzo di fiori di campo che depose sotto l'immagine venerata della vergine protettrice quanto più l'annina mostrava sicurezza tanto più io mi sentivo impacciato impacchettato come ero nel vestito che mi aveva prestato ora non ricordo chi ero rigido rappreso mi muovevo a fatica e cercavo di restare il più possibile fermo per non mostrare disagio o imbarazzo officiò la cerimonia un frate francescano anziano che dal pulpito dei suoi novant'anni biascicava il vangelo come risucchiasse una minestrina di magro ma l'annina non vi fece vada all'ingresso qualcuno aveva già improvvisato una strofa sul motivo della marcia nuziale invitando gli sposi a non compiere quel gesto per evitare possibili tradimenti ed essere indicati a dito dalla gente la nina pronunciò il suo sì con voce chiara e sicura io invece la voce dovetti schiarirmela un paio di volte o tre baciai l'anello prima di infilarglielo al dito mi sentivo grato a lei e al mondo intero per avermi preso come marito e avermi atteso tanto e per la prima volta mi sentì in pace l'annina mi aveva redento di quella redenzione umana gratuita e a perdere senza chiedermi nulla indietro s'andò a desinare dalla nonna lina in pace mentre fuori continuava a piovere ma di quella pioggia dolce costante che non si ferma mai e che intride i vestimenti di un umidore che a malfatica si avverte ti sei bagnato non ti preoccupare questa è acquascema l'annina parlava e ogni espressione che proveniva dalle sue labbra rigonfie e carnose pareva portarmi un senso di sicurezza e di gratitudine verso quella donna che non aveva fatto altro che aspettarmi con pazienza e tenacia per tutta la vita e senza mai darmelo ad intendere e le baciai quelle labbra la sera quando ci ritrovammo non era nemmen stanca di tutte quelle grida di viva gli sposi di tutte quelle parolacce grevi e volgari che pure a Livorno non mancano neanche negli sposalizi sì reverendo padre le baciai come avessi posato la bocca incerta su una sacra immagine perché non verrà altro in lei che l'aura di secralità impressa dal rito del matrimonio e mi resi conto allora stesso che nessuno avrebbe turbato quella pace che era in lei che era in me pura sconosciuta rotta a tratti solo dallo squillare argentino della sua allegra consapevolezza di essere sposa pace ne ebbi anch'io e in abbondanza presi a lavorare presso un negozio gestito da una coppia di coniugi anziani e che vendeva granaglie legumi secchi e cereali al dettaglio l'amelia così si chiamava la proprietaria aveva passato più di metà della sua vita a incartar fagioli lenticchie orzo e riso nel foglio giallo che andava bene per qualsivoglia sorta di cibo si volesse comprare dal pesce alla carne e siccome di carne se ne vedeva assai poca l'amelia sopperiva i bisogni alimentari della clientela piegando e ripiegando con abilità quegli involti destinati a chi aveva da badare più al borsello che al portare il necessario mangiare in casa ecco signora mezzo chilo di ceci di quelli nostrani vedrà che oggi mangia bene suo marito a genore invece vedeva e rivedeva i conti che non gli tornavano mai bagnava con la saliva la punta dell'apis copiativo pigliava su un foglio di quelli da incarto e lo riempiva di numeri che segnava come volesse interrogarli uno per uno e la cui somma vuoi per imperizia vuoi per i clienti sempre meno disposti a spendere non gli tornava mai si riponeva la matita dietro all'orecchio ripassava le palme delle mani sul grembiale e suggellava i suoi calcoli mormorando anche stasera si fa il giro del tavolino io trasportavo i sacchi pieni di tutto quel ben di dio a volte a genore non aveva di che pagarmi e allora mi permetteva di portarmene un po' a casa dove l'annina mi aspettava con gli occhi lustri dalla contentezza facioli borlotti i boni stasera ci si fa la minestra coi padren nostri vami a prendere un po' d'aglio una pimenta e un rametto di ramerino vai che si sgrofugna i mesi passarono senza che me ne accorgessi in quel delicato equilibrio che mi aveva fatto passare di mente perfino l'onta che mi avrebbe accompagnato per l'esistenza intiera quella di aver ammazzato un uomo spesso io e l'annina si ragionava del far figliuoli e del fatto che ormai era ora che ci si desse da fare allora citrullone lo vorresti un maschio e lo vorrei sì ecco lo vedi che sei citrullo femmine ci vogliono sono più intelligenti e poi una mano in casa mi ci vuole davvero o perché i maschi cos'hanno sono stupidi no ma se cresce come il suo padre si sta allustri tutta la gente del rione diceva che l'annina se la gallina non le faceva due uova al giorno non la teneva in casa ed era vero a volte ma io mi sentivo pervadere riempir di pace e ben volentieri soprassedevo alle sue fisime di brava massaia attenta all'economia domestica il destino tuttavia reverendo padre non guarda alle vicende degli umani semplicemente pare compiacersi di variarle come fossero statuette di cera di lì a poco l'annina si mostrò via via sempre più taciturna si rinchiuse in un mutismo che non lasciava presagire nulla di buono se non la catastrofe che di lì a poco si sarebbe abbattuta sulla nostra vita di sposi e nella mia quella del suo umile servitore che le indirizza queste memorie do da dire che sarà mai mettita a sedere mi sedetti che le gambe mi tremavano e fu un bene che agguantassi per la spalliera una di quelle seggiole impagliate che avevamo in casa aspetta un bimbo me lo disse con le gote solcate da due lacrime asciutte pareva le si fossero congelate sul viso tanto erano rapprese in un grumo di amaro sale lo stesso che ci viene spacciato il giorno del battesimo per viatico della sapienza non sono sicura che sia tuo seguì un silenzio rotto solo dal suo respiro affannoso che dovette darle se possibile un certo sollievo di quelli che arrivano a liberarci le braccia dopo che si è trasportato un peso eccessivo io mi sentì invadere il cervello da un fiotto di sangue mi premeva in testa obnubilando qualsiasi altro pensiero e facendo del mio sentimento uno stallatico buono ormai per concimare i campi poi repente uno sbocco di lucidità chi è stato Annina? chi? dimmelo subito o quante veridio faccio lo sproposito quanti spropositi fai te o che vuoi fare ammazzare anche lui o non ti basta una vita che hai levato dal mondo ammazza me me piuttosto che sono stata zitta tutto questo tempo a sentirmi marcire il ventre mentre ti lavavo le mutande non parlammo più per ore di quelle ore che cercai di ingannare riportandomi alla ragione che non voleva saperne al contrario di ricondurmi a lei c'era in casa del vino e ne bevi mezzo fiasco ma non mi bastò l'Annina continuava a tacere stolida testarda immersa nel sigillo del suo segreto che mi assordava il Nelly cosa? è stato il Nelly il Nelly ci sei andato a letto allora? no sul pavimento e anche sul tavolino di cucina mi rimisi alla svelta la camicia e i pantaloni e raggiunsi il mare di notte pareva mi fosse restato amico soltanto il suo continuo sciabordare e quella schiuma biancastra che raggiunge la riva e che scompare prima che il mare si ritragga a ritrovare se stesso non so dire se piansi o se mi limitai a imprecare la divina provvidenza e non so nemmen dire quanto tempo restai a guardare la distesa d'acqua che bagna Livorno e le dà riposo ma so che vidi spuntare l'alba del giorno che mi avrebbe maledetto per sempre stürmlich fu alla fine di quell'alba tormentata e definitiva per l'anima mia e per quella del Nelly che mi misi a cercarlo per ogni dove senza averne traccia né i rossi di Livorno né la figliola del Baluganti che con lui se la intendeva sapevano dove fosse rifugiato quell'uccisore della mia pace familiare neanche la Lola seppe dirmi qualcosa impestata com'era dai vapori di un cognac scadente e a buon mercato ricurva sulle sue lussurie e sulla sua vecchiaia che le si era presentata anzitempo qualcuno al porto diceva che si fosse rifugiato in Svizzera assieme a qualcuno dei politici anarchici amici suoi altri si limitavano a esprimere una connivente biascicata di dubbio come a dire che tutti lo sapevano bene dove si trovasse ma che nessuno era disposto a spendere una parola in più sul sentiero per il quale egli andava destinato la morte o porto di Livorno traditore a mezzogiorno divorato dalla fame e dal rancore cieco che morde l'anima ben più della dignità perduta mi fermai a calmare l'appetito e con le ultime monete rimastemi comprai due etti di torta di ceci il cui bollor di forno mi rinfrancò le forze perdute da tanto camminare e la determinazione di farla finita con quell'assassino che aveva rovinato per sempre la mia serenità verso le due passando dalle parti della stazione notai un ragazzotto sulla trentina che ragionava in modo concitato con un altro che mi voltava le spalle scappa per dio scappa fra dieci minuti parte il treno per Firenze e da lì con un po' di fortuna puoi prendere quello per il confine se tutto va bene stanotte sei fuori d'Italia ma per l'amor del cielo scappa che se no quello ti ammazza o non l'hai visto cosa ha fatto a quel dottore la nina gli ha detto tutto di te e di lei è sortito di casa e non si sa dove sia ci vuole più di un miserabile cornuto per ammazzar me son più d'un boccone sai fu in quel preciso istante che la mia rabbia si trasformò come per incantesimo un malocchio in una calma serafica e consapevole scevra da ogni trubamento ripensamento o rimorso il destino reverendo padre ha in serbo per noi reazioni emozionali che nessuno prevederebbe di avere in una circostanza si fatta le mani non mi tremavano non più e avevo in animo solo il desiderio di più il bisogno ineludibile di cancellare quell'infame dalla faccia della terra che era solo buona cosa e gran servizio a Dio e agli uomini feci un passo verso di lui le gambe erano ferme salde stabili e per la prima volta dopo la mia peregrinazione mi stavano portando verso l'unica direzione possibile le seguì con convinzione ferma la stessa che si ha quando si affronta tutto quello che è inevitabile lo sentivo bofonchiare qualcosa la sua voce ah le voci non tradiscono mai pur confondendosi con quella del suo interlocutore pareva emergere dal brusio di sottofondo evidenziato dallo sferragliare cadenzato dei filobus che dalla stazione partivano per ramificarsi in quella che era la mia città e che lo sarebbe stata per sempre ah eccolo l'armandino alla grazia degli occhi che ti vedono o cosa ci fai alla stazione a quest'ora ti cercavo me o che sei te il commissario no la tua cattiva coscienza il giovanotto che era stato con lui fin quasi al termine della sua vita terrena appena mi vide si dia a correre via lasciandomi solo con quell'omicida d'anime e di sentimenti ora si fanno i conti io e te per l'annina ah l'annina non crederai mica a quel che si dice in giro no io credo a lei e al figliolo del peccato che porta in seno e il peccato è il tuo gran pezzo di merda è una maestrina cosa vuoi che capisca è abituata a raccontar favolette ai fanciulli avrà preso per fanciullo anche te del resto se l'hai sposata e aveva di nuovo quel fare strafottente e provocatorio che gli era solito teneva le braccia concerte in segno di sfida e non si muoveva di lì neanche di un centimetro mi venne in mente come in uno schiantar di tuono che era stata la Nina stessa quando eravamo felici a spiegarmi che provocare voleva dire chiamare a ossia dare una risposta che ci viene imposta più che richiesta noi camminiamo chi per il sentiero spinoso del calvario chi per quello costellato e limpido del paradiso e qualcuno o qualcosa ci distrae come se volesse dirci sono qui perché non mi guardi perché non smetti un momentino di camminare per badare a me e pensai che la provocazione era il più grande crimine della storia degli uomini altro che il peccato originale fu così che mi parve naturale mettermi la mano in tasca e tastare per aver conferma della sua confortante presenza il coltello che portavo sempre con me la Nina quando mi amava ancora soleva chiosare accidente a coltelli e al maledetto che l'ha inventati e dissi in modo che capissi bene è finito Sandrino il Nelli te ne devi fare una ragione ebbe come un attimo di disorientamento chissà cosa gli venne in mente forse che non avrebbe visto il tramonto sul mare e neanche qualche duna delle sue innumerevoli puttane il manico del coltello mi sembrava caldo pronto pulsante lo estrasse e lo appoggiai contro le sue torribili putende che non avrebbero mai più dato seme per generar figliuoli bastardi di cui impestare il genere umano con la sua criminale progenie o cosa fai ma l'ultima parola gli si strozzò in gola già che la lama a scatto aveva già compiuto il suo dovere penetrandolo completamente la feci scorrere qualche centimetro più in alto giusto per contemplare la reazione bambinesca del Nelly la cui prepotenza aveva ceduto il passo a un volto più arrendevole e a uno sguardo che si spegneva via via dal dolore poi ritrassi il coltello per un solo momento per colpirlo di nuovo allo stomaco e vedere sgorgare il suo sangue marcio che andava a innaffiare i prati delle aiuole della stazione mentre cadeva a terra ormai esausto e allora tornai a colpirlo più e più volte alla gola al collo alla schiena e poi di nuovo al ventre finché la lama non si piegò contro il costato che riparava inutilmente il suo cuore nauseabondo fu una furia spietata come spietata era stata la sua provocazione della mia vita ma certosina e metodica come la mano di un chirurgo o di un macellaio non mi accertai che avesse smesso di respirare presi con passo svelto la strada di casa e per la prima volta avvertì il freddo di quel malinverno traditore pungermi le membra stanche sentì distintamente il grido della raccoglitrice di stracci e ferri vecchi che chiamava perché qualcuno le desse qualcosa mi prese una rassegnata commozione al sentire il canto di quella città che avevo sempre amato e che da gran budello che era se ne infischiava di aver fatto godere chissà chi in quale modo e soddisfacendo per denaro non si sa quale perversione mentre abbandonava i suoi figli in giro per il mondo giunsi a casa che la Nina mi aspettava senza aver dismesso lo sguardo duro e coriaceo che indossava la notte avanti e che la rendeva irriconoscibile ai miei occhi e ora cos'ha intenzione di fare respirare Rannina respirare ad libitum Repubblica Italiana in nome del popolo italiano il giudice dottor Vinicio Ceccherini ha letto e pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza nel processo penale contro Verticelli Armando già giudicato presente nato al Livorno il 12 1 1932 domiciliato presso la casa circondariale Le Sugere Ut Supra difeso d'ufficio dall'avvocato Anchise Castiglioni imputato del delitto previsto e punito dall'articolo 575 codice penale perché con numerosi fendenti provocati da arma d'attaglio causava la morte della persona offesa Nelli Alessandro detto Sandrino con le aggravanti contestate della premeditazione e dei motivi abbietti sentiti il pubblico ministero dottora Milcare Costaglioli e il già citato difensore d'ufficio per questi motivi visti gli articoli 442 553 seguenti del codice di procedura penale dichiara Verticelli Armando così come in epigrafi identificato colpevole del reato a lui ha scritto con il riconoscimento delle aggravanti specificate e lo condanna alla pena dell'ergastolo oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in stato di detenzione dichiara l'imputato interdetto imperpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena ordina la pubblicazione della sentenza prestratto e per una sola volta sul quotidiano il telegrafo di Livorno applica la misura di sicurezza dell'isolamento diurno per la durata di anni cinque e dell'applicazione della libertà vigilata al termine dell'espiazione della pena per un periodo non inferiore ad anni tre condanna altresì l'imputato alla liquidazione del danno in favore della coniuge vientinesi annina da stabilirsi in separata sede civile conferma il sequestro preventivo e conservativo dell'arma del delitto così come stabilito dal giudice per le indagini preliminari fissa per il deposito della sentenza il termine di giorni 90 Livorno 11 dicembre 1956 ma l'inverno parole finali il modello della composizione di questo romanzo è la narrativa picaresca spagnola del sedicesimo secolo in particolare l'immenso Lassariglio de Tormes che non ha ancora finito di dire tutto quel che ha da dire e ci parla ancora incessantemente letteratura di poveri vagabondi quando non addirittura di delinquenti o disgraziati spesso le tre cose coincidono del Lassariglio ho ripreso stile la narrazione in prima persona la descrizione delle umili origini del protagonista e perfino espressioni quasi pedissequamente riportate tanta e tale la loro forza espressiva e poi la famiglia di Pasquale Duarte del premio Nobel Camilo José Cela per cui si parlò addirittura di letteratura tremendista termine che mi è sempre sembrato eccessivo finché non mi è capitato tra le mani il figlio del padre di Victor de L'Arbol e mi sono ricroduto mentre ponevo mano alla narrazione mi sono imbattuto in un romanzo di Domenico Dara che porta lo stesso titolo del mio onde evitare spiacevoli e pretestuose riprecussioni ho pensato di cambiare il mio titolo originale in Mal Inverno ma la soluzione non mi piaceva per cui l'ho lasciato tale e quale Dara si riferisce al cognome assai diffuso mi dicono nell'alta Lombardia del suo protagonista io a una stagione malevola e al mondo c'è posto per tutti Valerio Di Stefano Parole finali il modello della composizione di questo romanzo è la narrativa piccaresca spagnola del sedicesimo secolo in particolare l'immenso Lassariglio de Tormes che non ha ancora finito di dire tutto quel che ha da dire e ci parla ancora incessantemente letteratura di poveri vagabondi quando non addirittura di delinquenti o disgraziati spesso le tre cose coincidono del Lassariglio ho ripreso stile la narrazione in prima persona la descrizione delle umili origini del protagonista e perfino espressioni quasi pedissequamente riportate tanta e tale la loro forza espressiva e poi la famiglia di Pasquale Duarte del premio Nobel Camilo José Cela per cui si parlò addirittura di letteratura tremendista termine che mi è sempre sembrato eccessivo finché non mi è capitato tra le mani il figlio del padre di Victor dell'Arbol e mi sono ricroduto mentre ponevo mano alla narrazione mi sono imbattuto in un romanzo di Domenico Dara che porta lo stesso titolo del mio onde evitare spiacevoli e pretestuose ripercussioni ho pensato di cambiare il mio titolo originale in Mal Inverno ma la soluzione non mi piaceva per cui l'ho lasciato tale e quale Dara si riferisce al cognome assai diffuso mi dicono nell'alta Lombardia del suo protagonista io a una stagione malevola e al mondo c'è posto per tutti Valerio Di Stefano Note aggiuntive come sinfonia Livorno è sinfonia pura è contraddittoria variegata accogliente e menefreghista allo stesso tempo e il bello è che nessuno se ne fa un cruccio o un qualsivoglia malumore per questo ho deciso di suddividere questa narrazione in quattro tempi o scansioni narrative corrispondenti alla struttura della composizione sinfonica tradizionalmente intesa le ho corredate dalle notazioni in italiano tipiche del genere giocandoci un po' sopra per l'ultimo tempo ho usato il tedesco del resto Beethoven Bruckner Brahms e Mahler non sono un'opinione paradossalmente però consiglio allo sventurato lettore di accompagnare la lettura di questa bagatella con l'ascolto della sinfonia numero 8 detta incompiuta di Franz Schubert che di movimenti ne ha due ciò che è incompiuto è sempre perfetto e come tutto quello che ha un finale aperto lascio il mio scritto al suo destino lo stesso di Armando Verticelli che ho creato amato allevato e perfino vezzeggiato finché non se ne andasse da solo per la sua cattiva strada bibliografia consigliata della Sariglio de Tormes esistono varie traduzioni italiane non tutte felicissime a dire il vero quella di Alberto del Monte ancorché datata mi pare in assoluto la migliore il guaio è trovarla altri capolavori della narrativa picaresca sono stati sistematicamente ignorati dall'editoria italiana ma dovrebbe essere ancora in circolazione la traduzione de Il trafficone di Francisco de Chevedo ad opera di Maria Grazia Profeti la famiglia di Pasquale Duarte del Sela è stata tradotta in italiano nel 1942 da Salvatore Battaglia per i tipi di Einaudi è riproposta in occasione del conferimento del Nobel allo scrittore galiziano Battaglia avrebbe potuto fare di più e di meglio e questo è fuori di dubbio un bravo traduttore abruzzese per Paolo Marchetti invece si è occupato con risultati eccellenti del testo di Victor dell'arbol il figlio del padre lo si trova ancora in commercio finché lo si trova l'arbol l'arbol